Un altro big della politica arriva in Abruzzo per le amministrative. A sostegno dei candidati del PD non c'è però il segretario nazionale Enrico Letta, ma il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Bonaccini è in forte ascesa all'interno del Nazareno ed è lui a fare da sponsor ai candidati sindaco. Ieri era a Lanciano e a Vasto, a sostegno rispettivamente di Leo Marongiu e Francesco Menna. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Roseto e Sulmona per Sabatino di Girolamo e Gianfranco di Piero. Prima però il governatore Emiliano Romagnolo è stato a Francavilla al mare al fianco dell'assessore uscente Luisa Russo. Il centrosinistra riceverà anche i voti degli elettori schierati su altri fronti ideologici. Le parole di Bonaccini. Bisogna giocare in campo aperto con un'idea molto precisa. Io l'unico consiglio che do è di non parlare degli altri. C'è una politica che solitamente parla male degli avversari. Lasciamolo fare agli altri, ma non ho dubbi che qui il buon governo che si porti in dote sarà la base su cui costruire il successo per la, mi auguro, futura sindaca. Se va come io presumo, cioè che nelle grandi città e non solo, non verranno confermati i sondaggi che nel paese vedrebbero prevalere questa destra. Ma in tante realtà probabilmente vincerà il centrosinistra. Vuol dire che c'è una classe dirigente territoriale che è molto più robusta da questa parte piuttosto che dall'altra. Io credo che se andrà come credo io, per la prima volta nella destra, nella Lega in particolare, si aprirà un problema. Perché vedo Salvini rincorrere a Meloni tutti i giorni, ma poi la gente quando deve votare sceglie l'originale e non la fotocopia. Un po' quello che accadde a noi con i 5 Stelle qualche anno fa. Luisa Russo, attuale assessore al commercio, è sostenuta dal PD, da Azione di Carlo Calenda e dalle civiche Insieme Siamo Francavilla, Alleanza Democratica e dalla lista di Antonio Luciani. Il sindaco usciente, infatti, oggi ha dichiarato che sosterrà la candidata del centrosinistra, ma che in futuro farà un altro percorso. A testimonianza dell'ormai acclarata lontananza del primo cittadino dal PD e dal segretario regionale Michele Fina.